Musica Guarda, proprio al volo, un saluto a Casa Sanremo Un saluto a tutti gli amici di Casa Sanremo, eccoci qua Che cosa significa per te ritornare in questa meravigliosa città fatta di fiori e musica? Graditissimo ritorno tra l'altro, consentimi Grazie, beh è una ripartenza che ha molti significati Soprattutto in questo momento in cui, insomma, ci siamo segregati per troppo tempo Siamo stati troppo tempo lontano dal posto che più ci appartiene, che è il palcoscenico Quindi questo è un Salremo molto particolare per me e per tanti altri miei colleghi E spero che, insomma, al di là delle votazioni della classifica L'augurio più grande che faccio, in primis a me stesso E poi a tutti gli altri miei colleghi e a quelli di tornare a suonare dal primo Come è stata l'accoglienza Ligure? Beh, è sempre calda Poi ogni volta che comunque metti il piede sul palco È sempre la stessa sensazione Pensavo che con gli anni questa specie di paura, chiamiamola così Ecco, sarei riuscito insomma a metabolizzarla Invece ogni volta è sempre più forte Con l'età peggiore No, buonissimo, dai In bocca al lupo, grazie mille Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti